Sì, è addormentato. Dice che da grande vuole fare l'operatore umanitario. Diggi quanto guadagniamo. Cambierai idea in fretta. Non gli credere. Dirai ai soldati che vuole fare il soldato. E ai giornalisti che vuole fare il giornalista. Avete visto i miei appunti? O hai buttato anche quelli, Mambrou? Direbbe a Katia che vuole fare... Ehi, Katia, cosa fai esattamente? Valutazioni sui conflitti e analisi. Come non detto. Non dirà mai a nessuno che vuole fare questo. Non so nemmeno io che significhi. Ti sta corteggiando? Attenta, lo fa sempre con le nuove. Lo so, questo. Lo sappiamo tutte. Sapete tutte cosa? Che lo fai sempre. Ci hanno avvertito. Era nel fascicolo della missione? Sotto la voce potenziali rischi. Insieme a mine e soldati ubriachi? Appena prima. Dovresti leggertelo. Lo faccio subito.